Il nome è Seung-woo, con il nome è Lee. Quante lingue conosci? Italiano, spagnolo, catalano, coreano. 4, inglese più o meno. Buongiorno, buenos dias, buon dia, good morning. Annyeonghaseyo. Com'è che si dice in coreano? Annyeonghaseyo. Sul campo, secondo te, il tuo punto di forza qual è? Il dribbling. Quando entro nel campo voglio fare di più, voglio fare dei gol, fare l'assistenza, quello che mi piace. Poi sempre quando entro nel campo ho l'adrenalina. Sempre vado avanti, vado avanti. Quando ho arrivato con 12 anni a Barcellona, era tutto differente, no? Perché venuto da Corea, Corea e Spagna, c'è un po' di differenza, no? Dal primo giorno mi hanno trattato molto bene, tutti i compagni, tutti i staff. Adesso sta nella prima squadra, il Carlos Alenia, che stava con me per molti anni. non può giocare di più perché la FIFA ti sta, non lo so, perché sta succedendo qualcosa. Io gli ho detto che sì, che non c'è problema, non gioco e basta, aspetto. Dopo poi andato a Corea con un allenatore di Barcellona, allenare, allenare. Dopo tornato con 18 anni. Ma tu lo sai che ancora il Barcellona ha il diritto di dire compra sul tuo cartellino? Se faccio bene, se gioco bene, magari in un futuro posso tornare a Barcellona, no? Lo sogni? Eh, magari. Italia에서는 Isungun 선수가 오랜만e gol 소식을 전해왔습니다. Italia 2부 Ligua, Verona, Isungu, ha 선발, ha chiamato un dribblo con il diritto. Tu, a casa tua in Corea, sei una vera e propria star. Oh, no, 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 no. È bellissimo questo video, no? È un programma in Corea molto famoso che tutti i coreani guardano il ruolo. Ma sei bravissimo a cantare, comunque. Ah, che ha fatto male, allora. Ti piace questa foto? Dimmi chi è. Lo riconosci? È l'arbitro di... Contra Italia, no? Il mondiale... È l'arbitro di questa partita? Sì, è il mondiale 2002. Ma tu te la ricordi quella partita? Perché in Italia ce la ricordiamo ancora. Sì, sì, anche io mi ricordo che abbiamo vinto 2-1. Eh, ma come avete vinto però? Possiamo parlarne adesso a distanza di anni. No, noi non parliamo di arbitro. Com'è per un coreano stare in Italia? In Italia penso che non c'è neanche un asiatico. Io e uno di Perugia, Corea del Norte. Dopo Nakatomo che stava in Inter, ma adesso è andato via a Galatasaray, che è un po' strano, ma... Sto bene, sto qua in Verona. Sto trattando molto bene tutti i compagni, tutti i staff, tutto. Perché secondo te questa squadra alla fine andrà in Serie A? Ah, perché c'è tanti compagni che hanno tante qualità, tanti giocatori buoni. Penso che arrivano i risultati, arriviamo a un punto in cui andiamo a Serie A. Piatto coreano preferito? Riso. Riso con... con polio. Dovete provare un po' di tutto, non solo una cosa. Tipo? Riso... con... Dipende. Riso... Riso. Dopo... verdure. Lasciamoci con un proverbio coreano. Non vedere avanti, sennò più futuro, no? Non guardare lo che sta succedendo adesso, sennò più futuro. Guarda il futuro? Sì. E tu cosa vedi nel tuo futuro tra dieci anni? Tra dieci anni? Sto... ...ciocando in Barcellona. Sì. 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 Sì.